Un'estate record. Quasi ovunque si superano i numeri del 2019 che è stato l'anno migliore nella storia del turismo italiano. Un giusto premio per i nostri operatori della filiera, ristoratori, baristi, albergatori, dopo un paio d'anni veramente difficili. Un grazie ai tanti stranieri che sono tornati in Italia e un grazie agli italiani che sono rimasti in Italia. Quasi il 90% sono rimasti nel nostro bel paese che non finiremo mai di scoprire.